Il primo consiglio di amministrazione dell'era Atlante comincia con il via liter dell'azione di responsabilità. Il presidente della Banca Popolare di Vicenza Stefano Dolcetta ha stabilito che nella prossima riunione verrà affidato a un legale di alto livello l'incarico di verificare gli eventuali profili di responsabilità riscontrabili nella gestione di Gianni Zonin e Samuele Sorato. Una risposta all'indomani dell'esternazione di Matteo Renzi che chiedeva una presa di posizione netta nei confronti della precedente amministrazione. Il premier ha detto che in Veneto qualcuno ha fatto sparire i soldi nel silenzio più totale chiedendo di fatto di agire contro chi ha gestito la banca. Sarà però Atlante a prendere una decisione definitiva nel giugno prossimo durante la prima assemblea dei soci post ricapitalizzazione. Adesso se il primo atto di Atlante è quello di andare a capire e a individuare e a promuovere nelle sedi legittime azioni di responsabilità è solo un fatto tardivo e pesantemente tardivo ma di cercare di fare chiarezza e di dare anche attraverso questo qualche risposta alle tantissime persone, decine di migliaia come sappiamo e a tantissimi problemi che riguardano le persone, le aziende, tutto quello che era collegato che hanno avuto danni pesantissimi.